Oggi ci troviamo al Lido di Iesolo dove verrà disputata la finalissima di Miss Italia, lo sapete, il concorso di bellezza più storico d'Italia. Attraverso le telecamere del giornale.it vi portiamo a scoprire tutte le curiosità del backstage. Sella naturale. Sella naturale. Non una ragazza che segue il modello della modella, tipo troppo alta, troppo magra, perché non è vicina ai standard della popolazione mediana. Basta come me, tutte abbiamo un seno prosperoso. Non vedo questa università qua, io sento che siamo tutte italiane. Se io ti dico Matteo Salvini, tu che faccia mi fai? Soffrivo di pambuzia molto grave e recitando davanti allo specchio diversi personaggi di film ho superato questa mia difficoltà. Etoppi tutti i nostri accerti tutti i nostri scassiatori cor route che l'avete cassa. L'avete spost Kahlese